Ehi ragazzi ciao a tutti la nick e bentornati qua su H-Survival Evolved mappa Ragnarok Quindi sono nella mia solita partita raga Eeeh dico questo perchè qualcuno temeva che non continuavo questa serie Ma che insomma continuavo solo la mappa nuova No ragazzi io voglio portare tutte e due le mappe Anche se preferisco anche io questa mappa La nuova mappa mi piace ma è parecchio tosta e un po' frustante Però comunque a prescindere voglio portare un po' tutte e due le mappe Eeeh comunque sia ragazzi con il nuovo aggiornamento che hanno fatto su Ark Mi hanno resettato i livelli Difatti li ho rispesi i miei livelli Solo che ho sbagliato e ho messo 200 di ossigeno Perchè invece di salire di 10 punti saliva di 20 Comunque vabbè E praticamente ho un po' meno peso Ma ho aumentato un po' i danni Così facciamo un po' più danni Ma per il resto è comunque un po' come prima Però c'è un problema Devo sbloccare tutto da capo E tutto un'altra volta bloccato Mo' ci vuole un po' Notate anche che è sparita la sezione qui chiamata 0 E anche un bene perchè dava pure fastidio a vederla Eeeh quindi sblocchiamo tutto Ci vorrà ragazzi un po' Eeeh Ok ragazzi Ho speso Avevo tanti punti Pensavo che quasi quasi mi bastavano per sbloccare tutto E invece no Ho fatto un po' una cavolata Perchè tante cose che avevo già sbloccato Non ce la faccio a risbloccarle E difatti mi lascio 50 punti da parte Nel caso per emergenza Devo sbloccare qualcosa che mi serve Eeeh quindi va bene così Va bene per il momento così Ci sono voluti 15 minuti per sbloccare di nuovo tutto Accidenti ma va bene Intanto però ho fatto giorno E almeno possiamo lavorare di giorno Perchè? Perchè ragazzi dobbiamo sistemare Oggi costruiamo una piccola casetta Sopra al brontosauro Quindi spostiamo sto bronto Lo mettiamo davanti casa Quindi provo ad avvicinarmi a casa In modo tale che Non devo fare troppo avanti e indietro Però si un bel po' di resistenza Ci vuole Perchè se no questo è troppo lento a camminare Se devo andare in giro da qualche parte Penso proprio che un po' di resistenza Non gli fa male Ok dai buono Va bene così A posto si ma non ti lamenta troppo Che se no qui sopra non ci si può sta Allora praticamente Dobbiamo piazzare qua sopra le fondamenta Purtroppo pare così Se no era troppo bello Se potevo costruire già direttamente così E il problema è che A quanto mi ha detto Jakur Posso costruire massimo 40 pezzi 40 blocchi posso al massimo mettere qua Quindi posso fare una cosa veramente piccola Se è così Se sono al massimo 40 blocchi Sono veramente pochi Perchè già solo di fondamenta Penso 15 blocchi 13 blocchi più o meno 12 blocchi non lo so Per le mura più il tetto Cioè praticamente posso fare pochissimo Ma muo vediamo Con cosa costruiamo Che cosa utilizziamo raga Che cosa abbiamo Il metallo Ok Bene facciamo tanta pasta cementificata Quindi prendiamo questa Prendiamo anche quella che ci sta qua E andiamo a costruire Le fondamenta In metallo Il metallo penso che c'è Allora stone Metal stone foundation Ne facciamo per ora Però la famone 9 Vediamo un po' come è la situazione Quindi questi me li fa piazzare Ok E mi fa anche capire Che quasi quasi potrei pure andare Anche un po' più in là Un po' più in là Ok allora facciamo così Dobbiamo lasciare un po' di spazio Qua davanti Perché qui bisogna insomma Guidare Lo faccio uscire anche già un po' da qua Così esce un po' da là E un po' da là Va bene Così va benissimo Ah io speravo che potevo già costruire qua sopra Perché tanto è lo stesso E invece no Io penso che ancora un altro po' ce le metto Dai Allora Praticamente Facciamo così E va più che bene Qui lasciamo aperto Quindi devo andare a prendere quei muri Alti 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 E li proviamo E a sto punto la pietra mi serve di nuovo Scusa se non faccio più in metallo Dammi la pietra Giustamente no Quindi avevo messo qui dentro le mura Dammi le mura Queste non le uso proprio Anzi si le devo usare in un certo punto Mi servono da In un posto Ok Voglio provare questa cosa raga Praticamente io voglio mettere le mura Queste qua Alte alte Ok perché vale uno Ma è alto quattro Quindi guadagno in altezza E praticamente facciamo che ne metto uno qua Ma è messo dentro o fuori Tanto cambia poco Uno qua E giustamente qui ci metto una porta per poter guidare no Quindi devo creare una bella porta Quindi raga A questo punto io qua dietro cosa faccio Ci vado a mettere questo Così Uno lo metto qua dietro Per poter poi scendere dalla coda Ovviamente Le due porte Un'altra la mettiamo qua E poi giustamente sti tre blocchi qui Li mettiamo uno qua E due sopra Senza fare cavolate Ok Poi Prendiamo No Questo no Così E mo speriamo Perché però Giacur mi diceva che c'era sto limite Di 40 blocchi Speriamo che non lo supero Beh finora mi sta facendo piazzare tutti sti blocchi Che teoricamente separati erano più di 40 Quindi magari così Va ancora bene E dai Ok Uno Due Tre Quattro Quindi ne devo mettere ancora uno qua E più quelli piccoli Allora andiamo alla pietra Griffon Il mio caro Ah aspetta è sceso un portale Vai veloce veloce Che so curioso Portale Dei desideri Sto arrivando Eccomi qua Sembra quasi che ha frenato Oh Quella geratina Buona Petrolio Cos'è sto coso Stimolante Se non sbaglio E per rimanere svegli E un po' di Polvere Pirica Dopodiché passiamo dal De di curo Ma prima mangiamoci Buono Allora De di curo Eccolo là De di De di Dedicato A te Dammi questo Grazie Io so sempre Troppo pesante Non riesco a muovermi Cosa c'ho Di troppo Qui con me Eccetto un botto di pietra Ecco cosa c'ho Come ho fatto a prendere tutta sta pietra Me lo spieghi Allora Trasporta tu Che io non ce la faccio Andiamo E cavolo E pesante pure lui Non ce Oh cavolo E' così pesante Che non si muove manco lui Ok Raga Tutte e due Siamo troppo pesanti Non ce la facciamo Atterra un po' Vediamo un po' Perché mo' Cosa mi serve La legna L'ho per caso Data a te Ho dato legna No Ma la paglia Ma la devi Diciamo Restituire Ma Dai conteggi Che ho fatto Ragazzi Teoricamente 40 blocchi Li faccio Ci arrivo anche Solo con il tetto Ma mi sembra Strano Perché Cioè Teoricamente Non ho Boh Mi sembra veramente Strano Che il limite È 40 blocchi Ma mo' Vediamo Magari se sbaglia Non lo so Mo' Vediamo Il tetto Tanto Lo devo Craftare Per forza Vediamo Teoricamente Il limite L'ho già raggiunto Dei 40 blocchi Quindi non c'è Un vero e proprio Limite di 40 blocchi Perché sicuramente Già ho messo Ben più Di 40 cose Boh Va bene Magari hanno fatto Gli aggiornamenti Hanno cambiato Un po' Le cose Chi lo sa Comunque ragazzi Fatto sta Che praticamente Abbiamo una casa È anche bella alta Perché alta Perché io pensavo Addirittura Di fare un piccolo Soppalco Qui Ci sta bene Teoricamente Ci sta veramente Bene Se me li fa Piazzare Ovviamente Sti blocchi Sì pare di sì Quindi io praticamente Volevo fare Tipo così C'è una doppia Stanza Ma vedete Quanto è bello Voglio fare Chiaramente Non so se c'è Poi un vero e proprio Limite di blocchi Massimi Però finché Me fa piazzare Io ci provo Vediamo un po' Raga A sto punto Mi sto a fare Un vero e proprio Secondo piano Chiaramente Non è facile Ma ce l'ho fatta Ma proprio qui Ma sì Penso che va bene Lo stesso Sì Mi guardate Quanto spazio Che abbiamo Raga Certo Ma vediamo Se ci fa Riempire Dovevo mettere Le fine No aspetta Le finestre Non potevo Metterle Raga È vero Perché Se metto Questi sono muri Alti 4 Se metto la finestra Come faccio a mettere La finestra Questi sono muri Già fatti così Quindi per il momento Ce li teniamo Anche così Perché Non so se c'è appunto Un limite massimo Di blocchi Quindi per ora Teniamo così come Quanto è bello Raga Però È stupendo C'è una casa mobile Peccato che non è tanto veloce Ma è sempre una casa Che si muove Ok ragazzi Ho craftato Un paio di cose Allora Vediamo un po' Praticamente ho preparato Delle torce Giustamente ci vogliono State un attimo fermo Mentre che piazzo la torcia Una torcia lì E un'altra bella torcia La mettiamo qua Ok Poi ho fatto Giustamente Il letto C'abbiamo il frigo Quello magari lo mettiamo sotto Un bel letto Lo metto qua Ok L'armadio è qua Scendiamo Ho sbagliato tasto Fa niente Frigo E fucina Quindi mettiamo Perché Ah Ci sono già troppe strutture Su questa piattaforma Quello che temevo Non posso Quindi il limite L'ho raggiunto Non era 40 blocchi Sarà stato una cinquantina Di blocchi Quindi E cosa vado a risparmiare Dove caspita Vado a risparmiare Certo che però Sì Probabilmente È sto soppalco Che è un po' Troppo Forse Forse soppalco È un po' Troppo Non lo so Ma praticamente Dove vado a risparmiare Potrei togliere la porta Tanto da qui Chi ci deve mai entrare Ma qui Qui non entra nessuno Ok Beh Almeno questa la voglio Dai La fucina Ci vuole Certo è un peccato Però Con sto limite Che non ci rimetto niente Qua dentro Perché non dovevo mettere Diciamo una specie di doppio tetto Per quello Non dovevo mettere il doppio tetto Ok Si sono accese Le lampade Il frigo ovviamente Non me lo fa piazzare Ma io quasi quasi Tolgo pure questa di porta Tanto Non entra nessuno Non esce nessuno Cioè va bene anche così Vado a mettere Un bel frigorifero Posso mettere Dove mi pare piace Tanto Di spazio ce n'è a volontà Voglio assolutamente Vedere se si può fare Anzi Se qualcuno di voi lo sa Mi dica Se posso Aumentare Il numero massimo Di oggetti Se è possibile Farlo In modo tale Che qua dentro Ci mettiamo ancora Un po' di cose Raga Perché così Effettivamente È un po' poco In un certo punto di vista È un po' poco Però Raga È stupendo Guardate là Ma peccato Che è notte Che quando finisco Le cose C'è sempre buono Buio Però Insomma È bello Avere la casa Sul brontosauro Vediamo un po' Come se muove Sto bronto Con tutta la casa Sì ma Non si vede niente Così ovviamente Ecco Devo guidare così E uno E uno in questo modo Ci passa Ci passa Nicchia di qua Raga Dite che c'è passo Dico proprio di no Oh ci passa Invece Sì sì Se posso aumentare Se posso aumentare Risolvere questo problema Va bene ragazzi Io penso che Concludo qui Questo gameplay La casotta Tutto sommata L'ho fatta Nel possibile Cerco di migliorarla Nel possibile Ovviamente Ok ragazzi Quindi mi raccomando Come sempre Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace Ci becchiamo presto In un prossimo gameplay Raga Ciao alla prossima